A brunati i distintivi sulla divisa degli arbitri, in tutte le partite di divisione nazionale un minuto di silenzio commemora la tragica fine dell'arbitro Silvano, perito nella sciagura aerea di Cagliari. Una commemorazione anche questa nostra rievocazione, Vienna 25 maggio 52, Silvano è il primo e guardialine dell'incontro Austria-Inghilterra insieme con Gemini e ancora in coppia con il romano lo rivediamo guardialine dell'incontro Italia-Svizzera-Palermo il 28 dicembre, doveva essere l'ultimo suo sorriso di fronte alla macchina da presa. Il minuto è trascorso, pur col numero 5 all'ala è il Siracusa che attacca ed è proprio sul centro di Sanson che Occhetta fallisce di poco il bersaglio. Emozionante l'ultimo minuto del primo tempo, su passaggio di Frugali Berkari scivola, si rialza, tira male. Sfumato il gol del Cagliari, su questa traversa colpita da Sanson sfuma anche il gol del Siracusa che nella ripresa è rimasto in 10 per definitivo abbandono del suo numero 5, perde la partita a pochi minuti dalla fine. Segna gol in, rafforzando così a spese degli ultimi in classifica il primato del Cagliari in Serie B.